Ciao a tutti i kooj e ben ritornati dal vostro Androling 1 su Pokémon Rose Gold Era da un po' di tempo che volevo fare questo gioco Questa Akrom che è un po' cortina ma praticamente riprende le avventure di Red Dallo suo scontro con Gold E praticamente ha perso contro Gold E noi siamo nella nostra diciamo caverna al monte Al monte argento nella regione di Tojo Praticamente è una regione tra Kanto e Giotto E so che molti di voi pronunciano Yoto ma in realtà si pronuncia Giotto voglio dire Comunque si diceva Control Ah posso portare i Pokémon con me? I Pokémon che dovremmo avere sono praticamente Venusaur, Blastoise, Charizard, Pikachu Pikachu, Lapras, Snorlax o Espion? No Espion abbiamo E Snorlax ok Nessun Lapras Ad ogni modo abbiamo anche dei barili Alcuni barili perfetti per essere lanciati degli idraulici Ma lasciamo dalla grotta Aspetta prima di continuare Dunque devo ricordarmi bene i tasti perché non sono molto pratico di RPG Maker E i tasti sono sempre gli stessi Ah posso correre con Z praticamente Bene Allora abbiamo X che serve per il menu e per chiuderlo C perché sarebbe l'A Quindi X fa da Start e da B E Z per correre Però se io facessi così No infatti Z non funziona come la B Solo la X funziona come B e come Start È incredibile Food Restore ok Vediamo un po' se riesco a correre Oh Blue Yo Red Tua mamma ha detto che saresti stato qui ma Hai forse paura di venire ad affrontarmi alla palestra? Un pochino Ma va bene Possiamo fare un po' di pratica qui Non ci siamo scontrati da quando mi hai battuto ai Super 4 O meglio due era il campione della Lega Un pochino sottolevellato Blue eh Ok allora Praticamente Allora lui si chiama Blue Ma in realtà dovrebbe essere verde Blue praticamente sarebbe nella versione americana Italiana del gioco Iron Tail che fa sempre Eh vabbè mista tanto che gli fa Dovrebbe invece verde nella versione giapponese Del manga e dell'anime No dell'anime no Del manga e del gioco Da noi è stato Blue perché Da noi non hanno fatto arrivare Pokémon verde Per la storia comunque sia di Lavandonia Che causava Disturbi Se sentita troppo a lungo E no non è la Creepypasta È un'altra cosa Praticamente la La storia della Del sindrome di Lavandonia La vera storia È che praticamente Si è ascoltata molto a lungo Con le cuffie ovviamente Dava mal di testa Perché alcune note erano molto alte E alcune molto basse E si mischiavano insieme E ti davano Un senso di disagio A lungo andare Ti facevano male dalla testa Ti facevano mal di testa assurdo Quindi Eh Hanno preferito Magari Quando è uscito Pokémon Blue Nel 97 In Giappone Sì nel 97 Anche perché nel 98 È uscito il gioco di Pikachu Nel 97 Hanno deciso appunto Di Mi è ridato il suo strumento Ma vabbè Hanno deciso di far uscire In Italia nel 99 Appunto Blue Perché era diciamo La versione Più Completa A livello di musiche E di E di bassa Perché i bug e i glitch Erano sempre gli stessi Quindi Non è che abbiano fatto Chissà quale grande lavoro Ok allora Mi è venuta in mente una cosa Guardando il suo Umbreon O Umbreon Non so come si pronunci preciso In realtà non ho mai capito Questo Pokémon Come vada pronunciato Mi è venuta in mente una cosa Quando noi troviamo Eevee In Pokémon rosso Dentro la casa Da quello che insegna Le MT Quindi mi riferisco A primo gioco Non quello che insegna Quello che conosce Tutte quante le MT Che dice che le MT Sono 50 Mi sembra fosse quello Comunque sia A Verdazzupoli No ad Azzurropoli Non a Verdazzupoli Ad Azzurropoli Quando troviamo Insomma Eevee Dentro la Pokémon Nella casa In alto Tutte All'ultimo piano Dove sta la Game Freak Oltretutto Noi prendiamo Eevee Ma anche Blue Ha Eevee Potrebbe essere Che ci fossero Due Eevee Invece di uno Questa cosa Mi dà un pochino Da pensare Che ci abbia Che ci fossero Due Eevee E lui ce ne abbia lasciato Uno Potrebbe anche essere O che ci fossero Tre Eevee Red Green Blue E che Magari Blue Ne ha preso Uno Verde Ne ha preso Uno E noi Ne prendiamo Uno Che gli Eevee Fossero in realtà Tre Dato che Eevee Poteva evolversi In tre Pokémon Differenti Allora Qui è la sommità Del Monte Argento Dove abbiamo Sconfitto Gold Ma Non è innevato Posso capire Che Può essere Estate Ci sta tutto Ma Ah di qua Allora si deve andare Ok E' carino Che abbiamo messo Gli sprite Di Bianco e nero Però In lotta Non mi piacciono Molto Oh c'è un ragazzino Wow Non ti riconosco I don't know Who you are Era meglio Non ti riconosco Cioè Sembri familiare Allora deve essere Un avventuriero O qualcosa Deve essere un allenatore Anche I allenatori sono fighi Anche io Li alleno Anche io Qualche volta Sono un allenatore Va bene Non so Cosa Tu sembri davvero familiare Chi sei Vieni da Palletown Sei di canto So chi sei Sei il campionale Gantico Porca vacca Non mi Non mi sorprende Che tu sia arrivato Qua sotto Ti ho visto in tv Ho venuto Ad Abur Town A nord C'è Obsidian Town Non c'è molto lì Ad ovest Di qui c'è Tyrian La cosa più interessante Da vedere Forse il Rainbow Peak Dove c'è Hoho E dicono che Hoho ogni tanto Volà lì Ogni tanto Sì Praticamente Every once in a while Di tanto In quanto Più o meno Dovrebbe essere Ok Ci vediamo in giro Quindi devo andare A Tyrian Town Per andare a vedere Hoho E questo è il vero scopo Per cui Siamo qui oggi Brestwood Devo attraversare La Brestwood Per arrivare A Tyrian Town Benvenuto Nella foresta Avventuriero Un allenatore Che non lo voglio Di affrontare Sì Devo andare qui Tyrian Town Bene Quindi andiamo subito A Rainbow Peak Senza perdere tempo Però Curiamoci Pokémon Prima Perché se no Non ce la facciamo Mio Dio Com'è brutta La texture qui Tutta luminosa Tutti gli alberi Tagliati Ah E qui dovrebbe Apparire Hoho Devo aspettare Che compaia O cose del genere Io aspetto Non è che mi faccia Problemi Aspettiamo Che arrivi Hoho La musichetta È bella Vabbè Basta Aspetta Adesso Se non compare Non compare Forse Devo fare Qualche Premere qualcosa Qualche Tasto Oh Stavamo aspettando Ho chiamato Yes Ah sono carichi Hola Hola Master Bull No Non ho la Master Bull Oh Ho viaggiato Per mare e monti Per venire ad affrontarti Sì sì Sbatteli 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 Finché poi Perché quando sarai mio Non la potrei più sbattere Non so perché Ma non lo voglio far uscire Più della costa È una cosa mia Sbatteli Ma ricordo Ed è anche più forte Perché è più forte Cioè era 77 Adesso sta all'80 Così Cos'è il caso Ah ho Quick Slow Rapidartigli Bene Allora Proviamo Catturiamo Oh Future Sight Non mi ricordo Come si chiama Italiano Deve essere Non mi ricordo Praticamente Fra due turni Mi rimanda L'attacco Che lì Che gli mando In questo turno Ma se gli mando Un Ultra Ball Lui che mi manda La Master Ball Sì perché me lo manda Con il doppio Della potenza Quindi Boh Più di una Ultra Ball C'è solo la Master Ball Più forte di tutte Non c'è altro Ultra Ball Vai Gala Catch em all Plagio Ash Dannazione Dovrei forse Allenare Il mio Pokémon Un pochino di più Per fargli arrivare A livello più alto Almeno a livello Da cattura Di Vieni da me Vieni da me Danazione Provare Provare a catturarlo Mi resta solo una cosa Da fare Allora Per riuscire a catturare La Mega Ball Cioè io devo capire Una cosa Con la Mega Ball Gli lancio 7 Ultra Ball Io dico Come faccio Lo spaccone Con la Mega Ball Cazzo Con la Mega Ball Assurdo In ogni modo Come sempre Vi ricordo Che in descrizione Ci sono il link Per Facebook E Twitter E se ancora Non siete iscritti Al canale Iscrivetevi E ci vediamo Nel prossimo video Bye bye